Oggi sta cominciando con voi una nuova creazione, una nuova immagine dell'amore e della presenza di Dio, un'immagine forte, potente, che è quella che noi chiamiamo sentimento in maniera errada, ma soprattutto oggi se siete qui davanti a Dio è perché credete di lui e vi state fidando di lui, lui si è fidato da voi, va detto lui e tu è quello che secondo me potete fare in famiglia, in un certo modo, sta a voi per metterci pure del vostro, io sono in mezzo a voi, ci metto anche del mio, ma voi vi dovete dire il vostro Sì, la vostra disponibilità. Io serena accorgo te serena come mia sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedeli sempre. Io serena accorgo te serena come mia sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti fedeli sempre e giudati. Io serena accorgo te serena come mia sposa, con la grazia di Cristo prometto di esserti